Senti spesso parlare di innovazione, cambiamento, distinzione. Si tratta di aspetti che dovrebbero interessare da vicino il settore immobiliare, troppo omogeneo e privo di quella creatività necessaria per evolvere. Il giornalista e autore americano Steven Johnson dice «Spesso è più utile connettere le idee piuttosto che proteggerle». Se indaghi le innovazioni che negli ultimi anni hanno cambiato il tuo modo di lavorare, scoprirai che sono state originate da persone con una conoscenza limitata del settore immobiliare e che provengono da altri ambienti. Molte volte si tratta di veri e propri outsider cresciuti in un contesto formativo più propenso alla connessione che alla competizione. Università, incubatori di start-up e alcune comunità professionali che promuovono collaborazione, interazione, circolazione delle idee. Il settore immobiliare è invece caratterizzato da una forte competizione. Competizione tra grandi brand, competizione tra all'interno dello stesso gruppo di lavoro, competizione tra agenzie. La frammentazione del tessuto aziendale è davvero impressionante e la dimensione economica media delle singole attività modesta. L'incapacità di fare sistema è causa della bassa percezione da parte del mercato e una resistente a retratezza culturale di una visione limitata. Steven Johnson nel suo libro Da dove vengono le buone idee ricorda che il trucco per avere buone idee non è sedersi in un glorioso isolamento e cercare di pensare in grande. Piuttosto il trucco è mettere più parti sul tavolo. Le innovazioni, le grandi idee non nascono dal nulla. Come viene per la vita biologica, essi sono frutto di un avanzamento incrementale, di tanti piccoli passi che creano una zona di opportunità. Il cosiddetto possibile adiacente. Ma c'è di più. Progresso e creatività derivano dall'interazione di persone diverse all'interno di network liquidi. Esse prosperano all'interno di grandi reti collaborativi in cui esistono opportunità per connessioni casuali e virtuose. Come tradurli in pratica questi concetti? Abbandona la paura di essere copiato. Allarga la tua sfera relazionale. Frequenta da vicino i colleghi più bravi, le aziende più performanti, i brand ispiranti. Costruisci un network liquido e trasversale dove far circolare idee, intuizioni, esperienze, opportunità. Vuoi davvero rinnovare? Vuoi essere parte del cambiamento? Vuoi distinguerti? La collaborazione di gran lunga più potente della competizione. Ecco perché a vincere sono i professionisti e le aziende che non puntano alla protezione delle proprie idee piuttosto le condividono e le rendono disponibili. E' così che avviene l'innovazione. Il caso favorisce la mente connessa.